buonasera a tutti oggi vi voglio raccontare una storia abbastanza strana riguarda la mia cagnolina stellina allora era il lotto prima del lotto giugno se non mi sembra il lunedì il lunedì 31 maggio se non mi sbaglio comunque la settimana prima il lunedì passato dell'otto dell'otto giugno comunque stavamo tutti quanti a casa stavamo parlando così e stellina quando vede le persone che ci mancano da parecchio da parecchi giorni lei fa sempre festa cioè si salta di gioia salta eccetera penso che immaginate la reazione che fa ogni cane quando vede una persona non molto spesso comunque niente stavamo sul divano e lei all'improvviso incomincia a piangere cioè come a quando si fosse fatta male ma non ma non capivamo come perché nessuno stava vicino proprio vicino a lei che la poteva fare fare male e cosa comunque è una cosa strana stellina incomincia a piangere come sa fare dal dolore forte e niente poco dopo ci siamo accorti che la sono andata a accarezzare dietro diciamo dove sta la coda e mi sono accorta che gli faceva male ma non capivo cioè non capivo il motivo comunque il giorno il giorno dopo cioè il giorno dopo sono cioè ho visto lei che comunque non alzava la coda non gli faceva male sempre di più ogni volta che ce la toccavo eccetera eccetera quindi cioè il giorno dopo ancora ho deciso di portarla dal veterinaio io gli ho spiegato tutta la situazione lei pensava che io c'è qualcuno l'avesse capestato con il piede invece no perfino che non mi voleva credere che fosse impossibile che si faceva male da sola comunque su questo sono rimasta molto dispiaciuta perché non mi ha creduto che così perciò ho detto una cosa strana comunque niente ci ha fatto cioè diciamo la radiografia cioè i raggi come si chiamano ed è uscito che la coda è stata cioè le sonata spezzata comunque lei che fa mi spiega tutta la situazione che ha preso questa botta e si è spezzata un po' diciamo alla fine della punta della coda si è spezzata e mi da del sciroppo dello sciroppo che ci devo dare per una settimana fino al prossimo controllo gli do questo una volta al giorno gli do questo sciroppo e lei poi vedo che incomincia a fare reazione con la coda che lei incomincia ad alzare di nuovo e niente poi sono andato lunedì 8 giugno sono andato là la sono portata portata a controllo ed è uscito che lei l'ha visto che la coda è alzata ha detto che intanto vi inquadro stellina comunque stavo dicendo che l'ha visitata e ha detto comunque quella parte lì dove lei ha preso la botta della coda diciamo che non non passa più il sangue che come forse molto quel posto quello è qua vi faccio vedere se riesco fatti vedere infatti questa questa parte qua comunque non si fa toccare la paura è niente comunque ha detto che da come vede quella parte la morta però la coda fortunatamente è viva non ha preso tutta la coda quindi lei anzi lei il giorno cioè la settimana prima quando la portai mi disse anche che c'era il rischio che la doveva imputare se non reagiva alla medicina la coda comunque niente sono stata fortunata perché non io sono stata male su questa cosa perché sono al contrario di far imputare la coda e le orecchie eccetera eccetera niente sono stata sono stata male e ha detto che comunque c'è stata fortunata che non che non si è causata la coda dell'uccera non mi ricordo stiamo e lei non non cioè non vedo nessuna reazione adesso sta facendo che sta facendo adesso si sta modicchiando modicchiando il c'è la zampina è una cosa normale ha detto la veternaia conti non c'è bisogno di preoccuparsi e niente ci tenevo a raccontarvi questa questa storia lei adesso sta bene e giocare l'una come sempre cc cc stellina saluta tutti i suoi fan stellina 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 la lei è sempre pazza niente quindi adesso sta bene con la coda speriamo che non se la morte per farsi uscire la ferita se no bisogna imputarla niente poi casomai viaggio nero se succederà qualcosa questo è tutto stellina saluto si saluta così stellina ciao ciao al prossimo video lasciate like se volete altri video di stellina mi raccomando